la delusione e la proiezione sembra che deludere il prossimo sia la cosa migliore che le persone sappiano fare in realtà è l'uomo stesso che si illude per mezzo delle aspettative che proietta sul prossimo aforisma di marco trevisan spiegazione dell'aforisma l'uomo odierno paga il pegno dell'egoismo e per non essere mai deluso dovrebbe rimanere solo con se stesso poiché per il proprio ego esso è il centro di ogni cosa a causa dell'ego infatti esso proietta se stesso nelle persone che di solito frequenta con l'arroganza di comprenderle perché convinto che esse si comporteranno come lui questo tipo di uomo rimarrà sempre deluso e darà sempre la colpa agli altri poiché non ha compreso che per capire gli altri non va mai esteso il proprio ego su di loro ma va arretrato per portarli dentro di sé vivendoli come parti di sé medesimo grazie a tutti grazie a tutti